Le accuse le rispediamo al mittente, lo fa sapere il capogruppo di opposizione del comune di Castellabati, Alessandro Lo Schiavo, dopo aver ascoltato l'intervista del sindaco costabile Spinelli sull'approvazione del bilancio di previsione. Secondo Lo Schiavo e i consiglieri di opposizione, si dimenticano pezzi economici e sociali importanti del territorio e al tempo stesso si registrano spese evitabili attraverso una gestione ponderata e lungimirante delle risorse della pubblica amministrazione. Ho avuto modo di ascoltare l'intervista del sindaco, di leggere le sue esternazioni attraverso la propria pagina politica, in entrambi i casi ho notato nervosismo, ho notato superficialità, ho notato quella classica politica dell'arrampicarsi sugli specchi che tende a oscurare quella che è la politica della minoranza, tacciandola, accusandola di demagogia, di facile strumentalizzazione, di non dire la verità. Quindi una maggioranza demagogica, strumentale, bugiarda come dice il sindaco, chiaramente tutte accuse che rispediamo al mittente che non trovano fondo, non trovano sicuramente nessun fondo di verità, non trovano riscondro, proprio perché il sindaco sapendo di mentire deve cercare di camuffare quella che è la realtà lampante, ovvero quella politica fallimentare che oramai accompagna questa amministrazione comunale. Tutto quello che la minoranza dice lo dice leggendo le carte, analizzando gli atti prodotti dalla stessa maggioranza consigliare. L'ultimo consiglio comunale con l'approvazione del bilancio di previsione, con l'approvazione del documento unico di programmazione, va nella direzione che dicevo poco anzi. Quindi fallimento di questa amministrazione comunale e quando noi leggiamo che questa amministrazione a distanza di nove anni dal proprio insediamento persegue obiettivi che vanno nella direzione di destagionalizzare il turismo, che vanno nella direzione di migliorare l'offerta della qualità turistica attraverso una politica turistica di qualità e non di quantità. Quando si vuole migliorare il commercio, quando si vuole consolidare il sistema fognario e depurante, quando si vogliono migliorare i servizi alle fasce più deboli, questi sono soltanto alcuni dei punti citati da questa amministrazione comunale, ci rendiamo conto del fallimento della politica fallimentare. Perché sono punti programmatici sì molto importanti, che hanno delle finalità nobili, ma che andrebbero perseguite da un'amministrazione comunale che è entrata in carica da poco, ma non certamente da chi governa questo territorio da nove anni. Basta guardare a quello che è avvenuto negli ultimi giorni, con il primo ponte festivo di tutto riguardo, per vedere la paralisi del paese, con i vigili che fanno da parcheggiatori, con un corso appizzottato, multicolore, dove gli indiani e i pakistani la fanno da padrone, le poche attività di qualità che si tramandano di padre in figlio hanno difficoltà di andare avanti, o come al primo temporale di tutto rispetto, basta guardare sotto la chiesa o Marina Piccola si vada a mare. Ecco, di questo dovrebbe interrogarsi il sindaco, su politiche di investimento serio che guardano i parcheggi, a palazzetto dello sport, ad un cinoteatro, o come anche approvare un piano urbano comunale, di come questo paese è stuparato dal cemento, dall'edilizia selvaggia, da come il cambio di destinazione d'uso sia il modus operante di questa amministrazione comunale. Quindi politiche infrastrutturali seri, che non siano solo parcheggi, che non sia soltanto pubblica illuminazione. È inutile che mi cita sempre il metano o la fibra ottica, che fanno parte di un percorso infrastrutturale molto più grande, che si chiama riduzione del gap infrastrutturale tra Nord e Sud Italia. Io invito questa amministrazione comunale veramente a rapportarsi a quella che è la realtà, perché ho l'impressione che si faccia percepire un paese che non c'è sotto tanti punti di vista. E anche durante la fase emendamentale, e colgo l'occasione per ringraziare il collega Maurano, la minoranza ha cercato di caratterizzare, di spronare questa amministrazione comunale rispetto a forme di incendivanti che si rivolgano alle fasce più deboli. E anche che passa attraverso la riduzione delle indennità che gli stessi amministratori hanno portato al massimo, rispettando sicuramente quelli che sono i principi basilari della legge, ma sicuramente non hanno tenuto conto dell'etica, del momento storico che vive il paese, che vive la nazione, proprio in ragione del fatto che la gente nella quotidianità cerca servizi, cerca un aiuto che questa amministrazione comunale dice di non poter dare perché non ci sono soldi, però trovano i soldi, accantonano i soldi per aumentarsi le proprie indennità, le proprie perbende a favore loro, a favore del proprio staff. Quindi parto da queste considerazioni, da queste dichiarazioni che sono negli atti, che sono nei fatti e quindi respingo e rimando al mittente queste becere dichiarazioni strumentali, demagogiche e bugiarde rilasciate dallo stesso sindaco.